Perché se ci pensate c'è un governo, ormai da 15 mesi, che dall'inizio non ha avuto scrupolo di applicare la più bieca demagogia sul terreno delle politiche migratorie, delle politiche d'asilo. L'abbiamo visto in ogni scelta. L'abbiamo visto con la retorica di questi anni che ha sempre voluto indicare nel diverso, nella persona migrante, un nemico, un nemico su cui scaricare tutte le rabbie, le frustrazioni, le colpe sociali. Ecco, questa è la destra che abbiamo conosciuto e che oggi governa e traduce questa retorica con politiche fortemente ideologiche, con scelte sbagliate, scellerate. Pensate a una delle prime di queste, quel decreto che noi ci rifiutiamo di chiamare cutro perché serve più rispetto per i morti di quell'ennesima strage nel Mediterraneo. Su questo terreno qua non può esserci timidezza. Alle destre nazionaliste che scelgono un nemico al giorno, ce ne sono molti altri, ma in particolare le migranti, i migranti, le richiedenti asilo e i richiedenti asilo. A queste destre che fanno questa retorica becera, ecco, non è che rispondi, loro propongono una visione sbagliata, per me aberrante, ma a quella visione non puoi rispondere con il silenzio e non puoi rispondere ammiccando a quella visione, devi rispondere con una visione altra, altra e alta che sia di supporto delle tue idee, dei tuoi valori che non possono essere che quelli dell'accoglienza, naturalmente, con delle politiche sensate, lungimiranti, che la destra non ha mai messo in campo. Ha fatto il contrario. Quindi non dobbiamo avere timore di questo. Non dobbiamo avere un timore di come ti schiaccia, no, quello stereotipo in cui ti vogliono cacciare. È una battaglia giusta ed è una battaglia che fa bene al Paese avere una riforma della Bossi Fini. Avere un vero superamento di Dublino che smetta di bloccare centinaia di migliaia di persone in questo Paese quando magari hanno una zia o un fratello in un altro Paese europeo. cambiare quei criteri, renderli più equi e più giusti, cambiare le norme di una cittadinanza che, scusatemi se faccio una piccola nota personale, ma sono state adottate nel 1992. Io avevo sette anni, oggi ne ho 38 direi a questo punto. Ecco, non è possibile presentarsi così a una nuova generazione che giustamente già ha scelto di far parte di questa comunità, è parte di questa comunità, a volte neanche lo sceglie perché nasce direttamente qua. E allora che senso ha continuare con questa negazione? Noi dobbiamo usare la formula più coraggiosa e dire con chiarezza a queste destre che c'è un'alternativa e c'è anche su questi temi e questo Partito Democratico non ha paura di affrontarli insieme a voi. Insomma, il messaggio è questo. Si apre una nuova fase e il Partito Democratico è a disposizione con umiltà per ricucire quelle fratture, per essere la casa dove ragioniamo, anche perché purtroppo respiriamo una certa solitudine, anche nel dibattito politico su questi temi. Noi ci siamo e ci saremo e ci siamo con tutto il coraggio anche quello che per una ragione o per l'altra fino a qui non è stato visto o è mancato oppure non si è percepito. Siamo qui per mettercelo insieme. Grazie.